stavi dicendo no no tra poco mi sa dire dove siamo qua come si chiama questa cittadina fa palinuro tu lo sai dove siamo nemmeno tu palinuro allora siamo venuti a palinuro alle 5 del pomeriggio ed è praticamente deserta sei meno un quarto per essere precisi è vero ban deserta stiamo camminando da dieci minuti ma non si vede ancora niente c'è qualcosa a palinuro ragazzi è desolato sì perché le persone stanno a mare e noi noi no noi no siamo qua abbiamo siete non c'è un bar chiuso eppure giugno è giugno ora grazie anche lì mangiamo da isidoro isidoro consigliamo quattro stelle ecco dopo avere dato il tè a lei è anche la più piccola ora siamo a posto stiamo trovando anche qualche negozietto ora iniziano a vedersi dei negozietti no 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 quanto è bello quel balcone che abbaccia al mare questa è la piazza di palinuro ecco la piazza principale dove chiara una foto bellissima questa è la chiesa qua c'è il panorama chiara ma riesci a parlare al telefono con queste campagne e poi c'è pure la festa di compleanno ci siamo andati bene vai vai ci siamo andati